La foresta diventa luogo di cura e metodo terapeutico. A Pescara è stato firmato un innovativo accordo di programma, il primo in Italia, tra Associazione ISA presieduta dal professore Ettore Cianchetti e Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara guidato dal tenente colonnello Cristina Di Tommaso. L'associazione ISA, acronimo di Istituto Senologico Abruzzo, è nata nel 2013 con l'intento di promuovere il benessere della persona tutto tondo e tutta l'età, sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza di adottare corretti stili di vita e promuovendo la cultura della prevenzione in ambito oncologico. Con questo accordo di programma, sancito durante un convegno moderato dalla giornalista Paolo Castignani, l'associazione celebra il decimo anniversario della fondazione e vuole far conoscere il progetto Benessere, curare l'anima, la mente e il corpo nello sviluppo della terapia in foresta, nelle aree naturali non antropizzate dell'Abruzzo. Questo accordo praticamente conclude un percorso che noi abbiamo iniziato dieci anni fa come ISA e ovviamente, poiché viviamo in una regione dove il 30% del nostro territorio è protetto dai parchi nazionali, mi sembrava ovvio, quasi spontaneo, dovevamo fare una ricerca e un accordo con i carabinieri forestali che sono i custodi del nostro ambiente. I benefici della terapia della foresta sono stati valutati, dimostrati e pubblicati su riviste mediche internazionali dopo gli studi compiuti dai ricercatori dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR di Firenze e Sesto Fiorentino, Federica Zabbini e Francesco Meneguzzo. Riusciamo a dimostrare che le difese immunitarie dell'organismo aumentano in maniera notevole, si abbassano gli ormoni negativi tipo il cortisolo e quindi questo dà un beneficio generale sul nostro organismo che si produce una maggiore difesa dalle patologie.